E' naturalmente ricco di polifenoli ed è fonte di vitamina E, sostanze benefiche che contribuiscono a prevenire, ridurre e contrastare alcune patologie e disturbi. E' l'olio extravergine d'oliva o Life, il primo olio nutraceutico d'Italia prodotto dall'azienda Ursini di Fossacesia. L'olio è stato presentato a Pescara da Giuseppe Ursini, titolare dell'azienda produttrice. Partner scientifico dell'iniziativa è la prestigiosa Fondazione Mario Negri Sud di Santa Maria in Baro, in questi ultimi anni coinvolta da un'importante vertenza che vede a rischio decine di posti di lavoro per ricercatori, borsisti e tecnici altamente specializzati nella ricerca biomedica e farmacologica. Tornando alle caratteristiche di O Life, nello specifico spiega Ursini, la quantità di idrossi tirosolo presente in O Life permette a questo tipo di olio di freggiarsi del vanto salutistico, previsto da un recente regolamento dell'Unione Europea. I polifenoli contribuiscono alla protezione dei lipidi ematici dallo stress ossidativo. L'effetto benefico dei polifenoli, secondo gli studi eseguiti nei laboratori del Negri Sud, si ottiene con l'assunzione giornaliera di 20 grammi di olio. La vitamina E contribuisce invece alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. O Life sarà venduto nel circuito farmaceutico. Ovviamente la materia prima è fondamentale, come tutti i prodotti alimentari, la materia prima è assolutamente fondamentale. Le olive sono raccolte nel periodo antecedente alla giusta maturazione, affinché possa conservare molta vitamina E e molti polifenoli. Vengono immediatamente lavorati, non parliamo di 24 ore, parliamo della sera stessa, quindi 4-6 ore. Vengono lavorati in un impianto tecnologicamente avanzato, quindi non c'è contatto con l'aria o con l'ossigeno, affinché questi valori vengono conservati all'interno del prodotto. Poi vengono stoccati in modo adeguato, quindi in cisterna d'acciaio, con la presenza di azoto, e vengono imbottigliati solo quando è richiesto. In modo che quando stanno in massa nella cisterna, conservano più a lungo possibile queste caratteristiche tecniche, che sono fondamentali affinché a questo appunto possa freggiarsi di nutraceutico.